Questo è il mio ultimo acquisto. È uno slamatore. L'ho comprato anche questo al New Moby Dick, dove mi trovo molto bene. E ci sono due taglie differenti a seconda della grandezza della bocca del pesce. Poi c'è anche questo, che serve a sciogliere i nodi sulla lenza. Ciao Ernesto! Ti manderò il video quando lo provo al lago. Vediamo come si usa. Per fare il test useremo questo branzino che ho comprato al supermercato, dato che non ho pescato nulla. Adesso facciamo il procedimento al contrario. Mettiamo l'amo dentro la bocca del pesce. Bisogna agganciare la lenza e poi, tirando un pochettino, andare al lamo e tirarlo via. Così non facciamo male al pesce.